quando il commone Giulia non è normale succede anche questo ora non volevamo alzargli la capotta un attimino perché là sotto c'è qualcosa di disumano ma volendo potremmo anche farlo non so se con lui di sopra funziona direi di qua cosa dici Roberto? ma io non l'ultima fatta gliela vuoi dare merita fatto per ringraziare per la prima giornata e allora come guardate là per cosa dici? per quanto non sarà da me guardi grazie a tutti ecco